Uè, ma tu non sei un figlio di Giovanni? E invece uè? Com'è invece uè? Ma tu non vivi a codogno, vi restai in quarantina C'è cazzo che stai facendo qua? E' venuto a guagliarmi a tutta, a vittarne, che già siamo guagliati a rimuovere, a scattare Ah, ma taccatevi, taccatevi!